Benvenuti ragazzi in questo nuovo video Oggi siamo diretti in costiera Amalfitana Perché mi piacerebbe registrare un video raw Ehi Tu Bang Stavo dicendo Oggi siamo diretti in costiera Amalfitana Perché mi piacerebbe registrare un video raw Quindi con un commentare minimalista Oggi lasceremo parlare lei Già la settimana scorsa avevo provato a registrare un video raw Ed ero uscito anche molto bene devo dire L'unico problema è che mi ero dimenticato di settare la SuperView sulla GoPro Di conseguenza i video sono usciti molto piatti E sembravano fatti da una GoPro Hero 2 E dato che non mi piacevano come erano usciti Poiché l'impressione che davano erano quelli di un video del 2006 in altro poco Ho deciso di rifarlo Anche perché ho finalmente acquistato il Combo Kable L'ho acquistato perché qualche settimana fa mi hanno rubato la borsa fotografica Con dentro la macchina fotografica che mi era stata regalata al compleanno E parecchie batterie della GoPro Ho fatto anche un vlog al riguardo Se non l'hai visto te lo lascio qua in alto a destra Mamma quanto cazzo è bello l'MT10 E a proposito vi volevo ringraziare per tutto il supporto che mi avete dato sotto il video Detto questo penso che ho già parlato troppo Quindi ci vediamo appena iniziano le curve Grazie mille Grazie mille Oggi il cappone è agguerrito E in più teniamo sta zetina che ci fa compagnia Bene mi piace come inizio Però così non vale Basta traffico Madonna che vento Abbiamo finito l'ozio quotidiano E ora siamo sulla via del ritorno Grazie mille Fine della pacchia Ma mi sono fatto male le palle Atterrando dall'impennata No vabbè tira un vento assurdo Mi sposto alla moto Wiley No Bella figura di Mer Ho portato finalmente a lavare la bimba Perché così sembrava effettivamente che avevo fatto la Parigi Dakar Ah Oh mo si Era obrigatorio il bagnetto In ogni caso ora andiamo in un barco a vicino A fare quattro chiacchiere A prenderci un caffè Detto questo il video può finire qua Come al solito se ti è piaciuto Lascia un like E lasciami anche un bel Porco Stavo dicendo Lasciate anche un commento qua sotto Se volete Che a me fa molto piacere Leggerli Ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 Ciao